Ragazzi, e indovinate tra parentesi che ve lo possiamo dire finalmente in live Indovinate questo weekend chi ci sarà nel show? Non noi Non noi, wuuu Volevamo dirvelo, non ci saremo Non aspettateci, non guardateci C'è Tirless Eeeh, D'Arz U sai che altro non ci sarà? Topta, Leo, Bertra Gli articoli 31 Oh raga, è saltata la partita Madonna, io stavo per dire una cosa sbagliatissima Cosa dobbiamo registrare, Leo? Cosa dobbiamo registrare noi? Cam e audio Cam e audio, l'aspetto che devo fare anch'io Sborra Eeeh, vabbè, la partita andrà per asparagi perché stiamo avviando tutto quanto Ma tu vai per asparagi, ma cazzo ti permetti di parlarmi così? Toglio, sto già registrando tutto Io intanto ti ho dato un più due, quindi beccati questo Sai cos'altro devi fare? Farti un... Eh? No, me lo sono già succato Eh sì, ormai niente Mi scaccio Abbiamo l'intenzione di aprirci tutto quanto Oh! Oh! Eh... Le bet, fate le bet, fate le bet Sto pescando a strascico Sto pescando a strascico per sempre Perché? Perché ho vietato la rechia? Sto pescando sei carte? Tu non fare domande su questa situazione, bro Non fare assurdo domande Cameto, 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 camento, cameto, cameto, cameto Voglio giocare Gioco! Grazie Perché, Berta, non hai rimesso il... Perché posso? Eh, vedi, totta Prego per i cazzi vostri raga va bene gli facciano saltare il bot no totta quattro carte altro che infatti dai dopo l'ultima volta mi merito una qualche tipo di gioia nella mia esistenza sinceramente non ti meriti io torno indietro va bene allora io ti sto dietro Leo se il gioco mi facesse giocare madonna perché è così lento dobbiamo poter creare che carti a totta ah uno Leo abbiamo un problema vai ma è un coglione sì ma è tutto un rischio perché secondo me devo puntare sui colori il giallo l'ha messo merda sei un cazzo di sei un cazzo di eroe aspetta 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 no non lo so è andato sta partita vai gioco il 5 perché la carta ci sono meno probabilità che abbia ma devo giocare io ah è vero godo godo polio estremo prego ok va bene mi va bene questo scambio comprensibile noi ridiamo e scherziamo ma anche Bertra c'ha le stesse carte mie ridendo e sterzando ridendo e sterminando è perché è andato facendo continuamente il cambio giro Bertra aveva il doppio turno ne ho avuti 7 di turni tipo ma io sto reccando sì sto reccando qui dovevi un 5 ah bastardo avrebbe fatto ridere se mi avessi cacciato questo 5 e tutto allora io ho un sacco di carte io ho un sacco di carte quindi faccio sfido mi segno che Bertra ha un ok ah bastardo è vero ok mi sono segnato le carte di Bertra sei un animale tanto è finita la partita e invece e invece oh no oh no oh no oh oh dai Leo quante te ne sei segnato di carte? eh due Leo le hai segnate tutte? sì sì lo segnate lo segnate mi sa che non le hai segnate proprio tutte sai temo sì ah si deve vincere totta sto giro non c'è niente da fare ma me la stai intendo c'è nel senso madonna se vince il bot io rido fino a dopo domani ma fanculo sì ragazzi ho imparato a dire uno ma solo perché è la prima nessuno mi aveva detto come funziona questo gioco all'inizio allora io cambio salta il coso però non mi conviene perché cambierai colore però se tengo questo totta gli ritorna al blu che non aveva se il bot riesce a mantenerla blu totta deve pescare se il bot non fa cazzate bravo bot nice eh ma che culo ho già al primo ma che culo ma che palle ok devo mantenere il blu devo mantenere il blu eh no Leo io devo cambiarlo purtroppo me ne frega il cazzo di quello che fai Bertra va bene io ho detto che mantengo il blu va bene io mantengo il blu bravo bravo ok io una cazza che si è un sacco no bot sei stupido ho trovato tutto il ragionamento tutto quanto e tu mi torni eh vabbè non è che il bot può aiutarti sempre già l'altra volta ti ha dato l'aiutone magico praticamente vaffanculo bot non mi fido più di te nooo Leo ok ok non ha il blu e non ha il rosso totta non ha il blu e non ha il rosso dai dai a Roma a te Bertra resta ancora l'otto verde fuck già totta devo capire quella carta lì non è blu non è rossa e la madonna no bot fermo fuck così nel chilling comprensibile comprensibile sei una bellissima persona e un grande amico intendi ho scelto la violenza sei proprio una testa di cazzo una testa di cazzo che però ha meno carte di ah no fanculo vai bot tiraglielo in fronte fanculo bot non serve niente ah ma ora voi due state litigando ufficiale tutti stiamo litigando infatti è da inizio game che stiamo litigando tutti credo finita la ship bot x leo era un altro bot non è questo non è che tutti i bot sono uguali razzisti che non siete altro guardate che le macchine si ricorderanno di voi quando dite queste cose madonna tutti uguali tutti uguali totta il verde ti serve? no vabbè ti risparmi un turno è perché totta non ha rosso e blu in quella carta a destra si ma magari era il verde che ha messo eh 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 among us eh amogus io devo mantenere il verde dopo i 6 c'è il 7 totta dopo i 7 c'è l'1 ah che era la carta che mi mancava quindi l'altra potrebbe essere anche rossa e blu siamo fottute va bene vai ah cioè tu sei si si qua doi l'ainto we never try we never learn na 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 wuuu e namo finalmente prima partita vinta in tutta la mia vita cambia eh puoi cambiare la modalità col 7 lo 0? eh ti prego non il 7 lo 0 Leo ti supplico no come faccio? ah ok va bene la prossima cambiamo nella prossima con lo 7 lo 0 ti supplico no se tu giochi lo 0 puoi cambiare il mazzo con un avversario qualsiasi e col 7 gira tutto quindi è tipo hai una carta io butto lo 0 io mi prendo il tuo mazzo eh non posso finchè non finisce questa non posso si si no lo so lo so facciamo dopo facciamo dopo ok oh no 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 per fortuna madonna questo bot cowboy mi sta proprio sulle palle sei stupido che ansia è un coglione è veramente un coglione tu non giochi più basta vaffanculo madonna santa che giga ansia che ho vissuto oh no verde il botti il bott oh no regole oratorio ah quindi noi che abbiamo perso dobbiamo toglierci un indumento giusto? ah Leo? eh? arco ah così proprio così gliela troppo sai cosa ti dico io non sai cosa ti dico guardami le carte guardamole dai guardamole bastardo guardamole 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 guarda coglione che cosa ti si sta per arrivare il prossimo turno caputtana no regà l'hai voluta guardare la tua fine l'hai voluta guardare la tua bella fine ahà comprensibile grazie mille abbiamo una gentilissima giornata e iha cowboy iha iha cowboy iha fa ridere l'intelligenza artificiale il bot si chiama iha cowboy parentesi perché ah è tipo carlotta che è romana carlotta o carlotta o wow ha scritto oh madonna Leo ma tu cosa hai a soggiro i told you i told you sai che ti dico le guardate prima sono le stesse non è che sono cambiate lo so voglio più carte possibili sta copiando la mia tastica dell'altra volta si si madonna bertra avevo già dieci cosa devo fare mamma mia mamma mia bertra mamma mia non mettete non mettete no e non si sniccia non si sniccia eh no ma che dici posso fare il cazzo che voglio aveva il set l'otto verde aveva aspettato che aveva puntato via una e aveva tipo sette in mano che ti ho detto l'otto verde non ce l'hai più snitch di un verda io sniccio quanto voglio a qui da chi tocca ah ok al bot a Leo eh vabbè tanto il bot non è che l'avresti potuto avvisare lui parla solo con Leo vai salta salta la partita che facciamo col set e l'otto e come faccio a saltare la partita fa falta abbandonare la partita adesso e io solo continuo a sinistra e io solo continuo eh vai continua e poi abbandona la partita eh adesso devi rinvitarci ok e spiegatemi bene però le regole di quello nuovo in casa no sette e zero sì sette e zero sì in pratica eh eh sì sette e zero volendo possiamo mettere anche anticipa non mettere gioco obbligato scusa no gioco obbligato non è perché puoi farti anche le tecniche senza gioco obbligato le tecniche tu puoi scegliere di pescare invece di buttare una carta per forza che magari dici ok lui sta per vincere io potrei buttare il duo cercare di pescare per avere una carta che lo fa saltare no 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 gioco obbligato significa che se peschi e quella carta può essere giocata devi buttare la carta per forza appunto è quello che ti ho appena detto cioè è una cosa è una cosa diversa se vuoi ci anticipa che è quello se tu hai la stessa carta dello stesso seme e dello stesso colore puoi buttarla giù anche se non è il tuo turno ok no brutto brutto ok lasciamo solo 7-0 e ribattere pesca strasci 7 scambia le carte in che senso allora io ho il mio mazzetto tu hai il tuo se io gioco il 7 e la posso per te il 7 gira in senso orario quindi io prendo le carte di Bertha Bertha prende le carte tue tu prendi le carte del bot il bot prende le mie con lo 0 invece io posso scegliere un giocatore e dire quelle carte sono mie e si scambiano ok non mi ricordo se è il 7 o lo 0 che fa l'effetto tutti quanti o l'effetto singolo penso sia il contrario eh non mi ricordo perché 0 c'era scritto passa di mano vabbè allora il 7 sceglierò 0-0 1 ok invitati invitati i bei pupi ok sono entrato sto entrando sono in caricamento oh no caricamento anche io sto caricando la spalla lo ho in caricamento oh ci sono madonna santa l'era tutta sta cosa per aggiungere le regole in realtà vorrei solo cambiare fotina esattamente oh iastro iastro del cielo allora non mi piace questa cosa che hai fatto ora devi mettere il 3 giallo per forza sei obbligato non ce l'ho 3 giallo mi spiace non ce l'ho oh no dai bot ok leo è diventato un personaggio di genshin leo impact aspetta 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 non voglio mai più vivere questa vita ti prego i personaggi di genshin fanno così quando scalano le pareti è oggettivamente vero ma hai giocato a genshin impact mi dispiace ho montato su genshin impact no io non lo scalco le facciamo fare il livello 35 aspetta mi sto zero bastardo oh here we go cioè quindi io me la so presa come si suol dire in francese era così il francese non lo ricordavo oh no oh no oh no oh no oh no ok ah ok piace piace mi piace fate il cazzo che volete stazzica un po' il mio scomprendo 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 grissin bone grissin bone 4 non è 1 oh oh c'è stato un twist allora io questa qua è buona però quest'altra carta so che l'hanno nerfata ah che palle allora secondo il meta attuale mi pare che questa qui c'ha l'effetto speciale quando la metto giù mentre questa qui addio non mi ricordo se l'hanno già patchata questa carta o meno oh no vabbè fate il cazzo che volete eh porca di una puttana basta chiedere tranquillo basta in culo e quindi bertra cosa mi racconti ti stai divertendo in questa partita no non mi sto divertendo oh però mi sto segando oh oh ammazza leo leo a porca era tutto un piano escugitato per avere il più 4 eh va bene l'ho certo ah stavolta non lo fai quello è piaciuto tutte le carte che posso oh 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 beh no perché non sono in una situazione distrutta come prima tutte le carte vai leo facci sognare io voglio te io voglio te oh ok mmm orca troia ok ok orca troia che è successo leo eh che è successo carte di merda sono successe cioè sei passato da 7 a 3 carte e sei riuscito ad essere in una situazione peggiore si ma che cazzo si assolutamente si chi è che stava picchiando io io ero io che mi prendevo a pugni nei testicoli ogni tanto puoi mandare un po' sai dopo no oh 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 ah fa un culo bot di merda povero bot non merita tutto questo bullismo guardalo con quella faccina felice sta tranquillo e se è via 8 è un bel numero è il numero che viene dopo il 5 ok oh oh vedi che mossa di merda che fa sto bot oh ah madonna leo questo gioco questo questo mi piace al bot no si no adesso prende solo i suoi tempi no no vabbè bertra tu vi immagini che non ti sta piacere sta partita e devi solo stare zitto ah non vuol dire non cioè adesso posso pescare per 6 giorni come ben sai ecco appunto porca puttana riuscirà il nostro eroe bertra a non pescare per 6 giorni no dai dai neanche gli è andata onestamente gli è andata in maniera assolutamente discreta ok 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 ah ah ok posso buttare il 5 verde e dire che sono disco al pubblico no si poi vai bot porobot verde o mi mi parelo oh ah da pindercura a cimolo che una tescate ma che sai l'intelligenza artificiale di chat cbt1 cioè ok sembra un po' personale devo essere onesto che colore ti chiedi il rosso va bene il roco ti ho conto di questa informazione te ne ho date 6 prima non te ne bastavano ecco le altre due coglione adesso rimbalza adesso rimbalza adesso ma tira proprio ma cattiva ma faccia proprio ok così Bertra si Leo dimmi Bertra Leo questo atteggiamento si ti racconto nei miei confronti ti tornerai indietro te lo dico ti tornerai indietro ah visto proprio ora ti tornerai indietro carne e sangue e freddo Giovanni adesso cosa c'entra mio dio ho scelto la violenza io in questi tour penso che se ora mi caccia un altro più 4 li potrei urlare e andarmene puoi contestarglielo oh godo eh 4 lui 4 te però il contesto al rimbalzo ha sempre senso godo godo il godo il godo il godo il contesto al rimbalzo quasi sempre è giusto perché cioè tu lo fai per rimbalzare quindi è probabile che hai un'altra carta di quel colore che è stato chiamato si 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 oh merda no che palle vaffanculo bot di merda spero ti caschi il pisel il pisel non ce l'hai un bot cosa ne sai guarda il suo fotoprofilo dove viene tagliata eh non c'è ah ok fai quindi dici che è felice perché sotto l'immagine eh sì eh sì ah c'è nata mi stanno tagliando il pisello mi prude il naso scusatemi ragazzi no mi prudeva da morire mi sta prurando da morire il naso leo mi fai giocare porco bertra è la tua live è il tuo video stai registrando tu vaffanculo cogliere vuoi fare un bot giochirogno ok me la filo così leo ah il mio ditino bastardo così perché per una carta a che pro a che pro giusto per non togliergliela al bot praticamente ok questa ragazzi eh porca puttana ah ma questa non finirà mai più cioè te lo posso assicurare no no finisce finisce guarda bertra che debole che va subito sulle carte del bot fanculo c'è neanche un po' di erano mie quelle carte ti ricordo erano di totta allora se vogliamo essere precisi eh ah giochi così ok capisco Italia uno due madonna che culo che hai avuto in questa pesca sì 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 è stata una pesca una pe no dai bertra non gioca va bene dai solo perché lo dici tu però quattro sette carte di bertra o carte di astro carte di astro sai cosa ti dico totta non mi piace questo tuo comportamento ok perché l'hai fatto non lo so mi andava non posso ok va bene sai che ti dico sai che ti dico totta lo sai benissimo ecco ridammele va bene continuo ad avvantaggiarmi cioè nel senso non è che mi stai facendo del male ridammi le mie carte ecco leo sta calcolando leo sta calcolando sì sì io sto calcolando uno di voi due mi sembra che avesse un sei oh cazzo il sei rosso eccolo è anche un nove rosso dovresti avere bertra tecnicamente total sei rosso no l'ha appena pescato total sei rosso non cercare di dire cose tu hai anche un nove rosso quindi io vado a cambiare le carte in blu no vabbè andata così unlucky bro oh madonna non lo metterai mai quel nove rosso no eh me l'accollo me l'accollo in silenzio leo non mi cambiare colore molto maleducato da parte tua what color is the sky ahimiamor ahimiamor you tell it that it's fucsia ahimiamor ahimia you make me un poco loco oh fuck it astro dammi un più due astro per favore mi dai un più due no questo non ascolta ahimiamor ahimiamor you make me un poco ahimiamor ok ok ma heart is blue for you ahim blue da 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 uno ah tutta cambia il colore adesso è diventato giallo no merda lo volevo mettere verde vabbè vabbè grazie mi voto un favore allora io potrei mettere il tre rosso ma non lo farò perché bertra c'è ancora il nove rosso quindi vado a pescare per cercare di sviare la situazione e dire al bot bot orco due stava via nel culo bot oh bot non contestare no ha contestato perché aveva ragione a contestare io potevo buttare il tre rosso gioco gioco il bot ha contestato giustamente il gioco non sa giocare il gioco non sa le sue regole ha posto così ok povero bot se è piatto in del culo jessica jessica dai riprova bertra ok grazie prego quando vuoi gioco con calma dagli il tempo coraggio non ce la può fare vabbè non fatemi giocare riswizziamo riswizziamo astro del cel bar gold divino non un 9 totta non un 9 ok un 7 bello oh fuck non mi è piaciuto questo gameplay you make me un poco loco allora leo quello non era un 9 rosso ma è un 2 rosso è il 9 rosso quando è uscito che cazzo ne so io grazie quel tizio 32 per la sub no raga avevamo detto che non andavamo a parlare le codi delle cose e ora tu mi hai snicciato così bertra mancano solo 27 sub 600 subatevi ragazzi leo 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 si wow uno bot ok bot di merda ok let's go la tattica dell'unicorno brae che cazzo fai ma perché brae grazie brae grazie brae ma perché 27 abbonamenti grazie mille ho appena detto che mancavano per arrivare a 600 ah porca tro brae grazie non te l'ho detto io ho detto fatele non do grazie grazie mille brae grazie mille brae un sacco di maialini ora nella in uno maialini di uno unini comprensibile refound refound brae un chiarrifandino violento orca di una adesso dico una parolaccia eh signore signore in pista mi raccomando adesso dopo aver ballato per tutto il tempo con la vostra signora è il momento dello scambio di coppie prendete un nuovo compagno e continuate a ballare continuate a ballare signori continuate a ballare signori piglia di queste due carte allora ragazzi il bot ha il due rosso non so se lo sapevate però grazie Sara per il ride grazie Sara è la canaglia attenta è Leo dimmi che possiamo farlo no posso dirti che mi prendo le tue quattro carte fa che lui butta il due rosso l'unico indizio che avevamo no quanto era acuto questo no molto era molto da bardo comprensibile sto avendo una buonissima giornata grazie mille come mai tre intelligenze umane stiamo prendendo in mano contro un'intelligenza artificiale settata probabilmente su facile beh un po' come come il bot di chess.com l'avevi visto Leo chess.com che avevano aggiunto il bot gattino con elo 1 che in realtà era fortissimo e ha picchiato tutti hanno messo tipo pesce d'aprile hanno scelto la violenza possibile e oh god quante sono le probabilità che lui riabbia una carta blu quindi 5% esatto quindi boffa il cazzo che ti pare ah ah oh merda no ma scusa no non si può chiudere con la carta speciale ma da quando non si può chiudere con la carta speciale ma 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 no raga kick al bot kick al bot ma io prima sono stata a 4 turni con in mano la carta dello stop perché non potevo lanciarla come ultima e il bot non sa davvero le regole del suo cazzo di gioco ma che cazzo che vuole ma ma non è giusto ma vaffanculo totta rentata no perché poteva buttarla giù con qualsiasi carta noi avessimo messo ma non è giusto scusa ma che cazzo è imbrogliato vaffanculo gioco su regole sue no non vale la parola è mia e decido io noi adesso chiudiamo la partita e ammazziamo il bot magari la sua esistenza finisce nel momento in cui noi chiudiamo stupido bot sì ma sono offeso non mi piace più questo gioco neanche a me basta chiudo la live adesso passiamo a 2s wow ah perché questo era unos questo è unos wii wii che carta di merda ho voluto dare un po' un guizzo frizzo a a questa cosa un twist a questa cia la sfida va bene anch'io ok 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 ottimo twist vai astro dai astronzo adesso io cerco un tutorial indiano su come hackerare il bot di uno vogliamo vedere poi guarda che lo cerco astro c'è questo il tuo atteggiamento sta vincendo di nuovo astro io pongo fino alle tue sofferenze cosa sta facendo astro scusa no niente stai pianto under culo bertra che cosa che sono fatto stai piando il culo bertra perché hai sgravato cosa ho fatto di male oh 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 questo è la contesta ora della contesta no per fortuna raga stavo 10 carte gialle cazzo astro passa dal 5.000 qui tutto quanto a gu gu gaga 8 carte a me gu gu gaga gu 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 gaga totta totta è molto molto immaturo da parte tua bertra per favore guarda veramente non mi parla di queste cose totta ne abbiamo già parlato basta però io non so come dirti no scherzo non ne ho altro mamma come stai si si non ho niente da fare tranquilla dimmi pure aha ok ah scusa tocca scusa ciao mamma povera scusate se ho usato il telefono era per una gag no ho compreso ho compreso fosse una gag no io non l'ho capita non ti ho chiamato tua madre no bertra non chiamo mai mia madre chi è che chiama la propria madre ah no sei per caso una femmina che chiami la mamma cosa doveva essere un dissing nei miei confronti perché io chiamo mia nonna sì ma quello è un po' troppo anche tua madre chiama te quindi è vero aha astro allora noi dobbiamo discutere del fatto che tu c'hai la mamma ok no tua madre è simpatica allora dobbiamo discutere del fatto che non mi puoi fistare il culo in questo modo ok bertra che colore potrebbe essere guarda adesso grifondoro tasso rosso giallo serbe verde wow leo 25% di scelta di fare la scelta sbagliata hai vinto oppure c'è lo stesso colore che sera ti avevo detto di mettere giallo peccato 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 comunque questa cosa del set dello zero è mezzo ininfamata posso dirlo eh sì c'è proprio lascia spazio lascia spazio a comunque sapete cosa dovremmo provare a fare il 2v2 ah sì pensavo al sesso ok magari con un ospite il 2v2 col bot col bot no no io col bot col bot fa spaccare faccio io col bot il bot sta vincendo molte più volte di noi non so se siamo tutti a uno se non sbaglio invece compreso il bot no se aggiungi anche quello dell'altra volta il bot è quello che ha vinto di più grazie Kingu per il 38esimo mese wow porca troia grazie mille you make me un poco loco ma no porca troia mi ha dimenticato di questa cosa ragazzi stavo giocando solo una carta vai Leo vai Leo vai 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 bot vai vai bot vai non è vero il bot non ce l'ha e invece si va a piacere in del culo Jessica poi vedete eh no Berta non ce l'ho più l'abbiamo già fatto il gioco ah scusami me lo scusami Berta ma non capisci un cazzo era finito il gioco sapevi le carte scusa grazie Wampo grazie grazie no no questo devi ringraziarlo Totta Totta puoi ringraziarlo grazie Daddy no dobbiamo mettere i nuovi stemmini abbonato per i danni e mezzo è vero dopo più tardi se trovo il progetto dei blobbini e mi metto a farli comprensibile non ci sarà più quel progetto secondo me sì penso anch'io ancora è stato un parto già trovare le emot per fare gli sticker su Telegram Totta Berta ho detto di no per favore smettila con queste cose cioè guarda che chiama anche mio padre guarda che chiama anche mio padre se continuate così Berta cioè io non so che dirti vabbè hai dovuto interromperla come un fattuto non ne avevo più eh li rifate no no io quel cazzo io li rifaccio li faccio sull'iPad che ho resuscitato bene farò un enorme per i due anni e mezzo faccio un cazzo l'iPad di Berta è pieno di porno no ah no non so se li ho purgati o meno ma dai è stata una partita quindi vabbè comunque questa cosa non è possibile che puoi già vincere con le carte speciali sì no c'è c'è let's go facciamo il 2v2 dai facciamo il 2v2 ma dovete causare le 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 sfide Yukin le bet aspetta due secondi Totta che volevo vedere una cosa mhm provo a fargli la partita due secondi che allora se faccio due contro due tecnicamente io avevo sbloccato hai anche sbloccato un po' di cose wow i feel good io ho sbloccato un po' di robe questo voglio ok ho il design della morte ok ma io non so come cambiarlo perché prima ho fatto il mio design ma non non posso metterlo metterlo ok questo qua questo è carino tutto colorato ah carino intanto ci sarai ok i feel good ok mi faccio spacca questo ma aspetta mi sta mettendo in una ma perché gioco online no io voglio personalizzata mia gioco in locale due contro due my design prendo questo questo pesca strascico inizio a giocare ma nascura non mi ha fatto invitare con il mio design perché perché non puoi giocare perché sei un po' no ok e questo ce l'ho io ce l'ho raga se vogliamo è ok allora fallo tu prova perché me non fa ok vabbè se inizi a giocare non accedi alla stanza non capisco perché non mi fa non me lo faceva fare a me you make me un poco loco un pochitito loco io io ho accettato la totta perché non sto entrando io sto entrando molto lentamente e io che sono un tortellino cammino un po' di qua cammino un po' di là e tu sei una crocca in faccia e ok ci siamo beh sarete felici sapere che voce c'è quando diciamo uno la voce della tipa che fa oh no oh no ah ma quindi non si sa che è col bot sono io con miopo miopo no no miopo c'è scritto miopo c'è scritto miopo mi piace il design delle carte molto belle molto belle non si capisce un cazzo sono quelle che avevo scelto anche io prima come fai a non capire perché li ha vedrai quando prendi un più due ah ma ci vediamo le carte ok ah ah no miopo sarà diverso perché ognuno sceglie il suo design essendo che tutti e tre avevano scelto lo stesso abbiamo tutti e tre questo beh totta ti dirò chi te è stramorto era totalmente imprevedibile questa cosa totta lo sai anche te mediamente totta ti ho detto chi te è stramorto non so se hai capito totta era totalmente imprevedibile anche questa allora io vorrei andare a giocare col bot gentilmente perché evidentemente imprevedibile punto per far giocare per far vincere leo vittoria accumulativa anche se lui sta puntando a farmi perdere signori un momento wow grazie leo ti sei voluto un momento switch combattilo a tre carte combattilo e ricordati le carte dimenticale ah 7 18 24 guarda 18 e 24 sono delle carte da uno lo so ma magari la confondo ok mi sono segnate le carte mi sono segnate le carte wow leo ti odio ok non mi serve più segnarmi le carte può riprenderle può riprenderle me le ricorderò anch'io leo vai le ricordi tutte quasi sì 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 almeno una ok 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 ahah ok un poco loco oh you make me un poco loco un pochititito loco non ha carte blu sto fallito non ha carte blu con questa cazzuridia non ha carte blu non ha dai riprovati no ha mentito ce l'aveva la carta blu ma sei un deficiente ha fatto la cosa intelligente poi ha deciso basta l'ha annullata è cretino ma è stupidissimo il bot con Bertra fanculo bot ti odio tantissimo tantissimo odio ma è proprio odio fanculo uno non è uno non lo so non posso dire uno no non puoi non c'è libertà di parola in questa aula no non c'è non c'è no qua non si dice uno va bene non si può dire uno allora ora quando butterò giù le ricarte non dirò uno ok fai il cazzo che ti pare oh no non hai detto uno leo infatti non ho detto che non lo dico momento difficile oh no make me un poco loco no Bertra vince ah no scusa mi sono confuso a 12 carte si un pochino di tipo loco però due carte lui ha 3 e 4 il bot bot va a 3 e 4 non mi ricordo i colori forse è giallo o blu Bertra ha 2 e 7 make me un poco loco un pochiti titolo oh 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 fallito ma è veramente un cretino è stupido porca di una merda il bot resta un 3 giallo così lo lasciamo lì in questo valala resta di cazzo sto bot di merda è stupido stupido proprio un coglione un decerebrato un deficiente ok oh mio dio questa voce oh no beatbuster vai beatbuster ah fuck ok avrebbe fatto molto ridere devo dire avrebbe fatto molto ridere ok ok let's go let's go continuiamo con questa nuova partita di divertimento in amicizia bella mi è piaciuto ci è piaciuto scusami no 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 io chiedo dove cazzo è il divertimento ah ma Bertra è sempre col bot ormai sono un duo siamo io e miopo grande miopo gnopo no gnopo intanto dici a sorta ok ok è perché ci sono i meandri della congiunzione astrale ma tu puoi vedere anche quale carta sto scegliendo no quella tutta a destra mia eh vai 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 sì sì era questa la congiunzione astrale della tecnica del maranza wow stava vinto il culo Jessica eh ti sfido fra dai c'è non potete c'è sicuro wow merda giga in culata giga giga in culata oh no giga nelle chiappette giga porca tro se la pia mondo del culo Jessica se la pia mondo del culo che te devo dire totta molto maleducato da parte tua lo so molto maleducato comprendo molto maleducato you make me un poco loco un pochitito loco un pochitito loco ok ok faccio così così Bertra non gioca va bene anche totta in realtà ma la pia onda il culo Jessica ma la pia onda il culo basta totta ripetere Jessica ahà prossimo se la parte whopper 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 ve lo dico è bene allora dico ma la pia onda il culo e basta va bene raga spandi whopper in chat grazie ogni tanto non puoi richiedere queste informazioni leo non fare co 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 non fare como non fare non fare questi scherzi a totta a totta a totta intendi al bot al bot nooo bello bel momento gaming dai abbiamo rovinato tutte le carte al bot adesso ne ha tantissime proprio come Bertra wow non importa non importa io accetto questo questo fatto l'accetto perché l'accetto ah mi correggono dalla chat è che te la pia in del culo Emile non te la pia in del culo wow l'hai anche sbagliato totta no ok va bene ecco maleducata nove nove ventinove nove trentanove nove quarantanove cinquantanove suona fischi e canta noi perché non abbiamo il bot col text to speech boh che vera ho sempre chiesto più quattro sium you make me un poco loco non rinuncio ho imparato la mia lezione comprensibile un pochi di dito loco oh yeah sono finiti tutti gli uno della partita e invece ne avevo ancora uno posso dire che le carte con cui stiamo giocando a uno sono enormi guarda il mazzetto in alto a sinistra confronto alla pianta e al divano madonna oh no ah perché totta tutte queste carte a me non piace questa cosa cioè tutte queste poche avete capito non rupe del cazzo no sì comprensibile bertha non lo sei capito non c'è scusami se non so parlare perché non sono di ecco eh ok 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 faccio così faccio così perché bertha fa così e io ho già previsto la mossa del te l'ho detto che l'ho prevista te l'ho detto totta l'ho prevista è stata bellissima grazie lei veramente faccio i miei più sentiti complimenti previsioni del meteo ok botta allora adesso dobbiamo giocare in modo che proviamola esgere ok va a fare in culo coglione non mi è piaciuto questo proviamo questo rischio questo questo matto questo questa bossa un po' così un po' arzilla un po' frizzicarello un po' matta un po' fuse gamer let's go ok un po' pensibile turududu 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 teletabis teletabis stavamo cantando Bertha no ciao 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 invece come le ultime interazioni vocali che abbiamo avuto penso negli ultimi 20 minuti sono solo con nomi di cammino sì sì assolutamente madonna io odio con tutto allora Totten tu mi stai particolarmente sul cazzo cosa farà il bot? non l'ha detto? bot sei un godo ma porca di una troia due volte su due deficiente cretino coglione non la gioco non la gioco questa qua perché è troppo rischiosa io non gioco più ragazzi cazze vostre divertite quando vuoi quando te ma solo se vuoi non vorrei no ma l'hai detto te che non giochi? l'hai detto te? no l'hai già giocata prima questa Berta ti sei sbagliato l'ho ripescato l'ho ripescato ho fatto il giro del mazzo intero Cristo ok let's go oh no ok hai preso un buon 75% Berta ma non è bastato madonna io odio questo io vi giuro ce la posso fare distrugge no 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 Leo? cosa? cosa era questo gameplay di altissimo livello bello ok 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 vai 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 ok vai vai bobo vai totta mettele zero così ti ripendi le tue carte no però Berta la sa ormai snitch di merda cambia il giro così Berta non poteva metterla a merda non so che cazzo non ho visto il tempo scusate beh non è cioè il bot è con noi grande bot questo bot vuole farmi perdere in ogni modo gioco ok scusatemi mi sono un po' alterato tranquillo nessun problema Berta non ha le blu provo a farlo ripescare di nuovo certo ok fare in culo pazzi di merda hai visto che pescavi così tanto ti piaceva quindi abbiamo detto facciamo glielo fare ancora ma scusate un secondo Berta ti sei buttato il microfono Berta hai quattro secondi tre hai pescato un sacco di carte dovresti buttare la carta sì sì scusatemi si era un attimo rotto il microfono ah come mai cos'è successo non lo so non capisco è strano ok ok togliamo colore in blu ci sta sì sì è una cosa che dovreste fare porco in blu si farei sì 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 ci sta è un bel colore il blu sì sì Botte quando hai voglia di fare qualcosa di utile nella tua inutile merda di vita chiamami telefonami videochiamami ma che culo che peschi le carte ne peschi una e poi subito l'altra ma che culo sì è assurdo anculatevi i coglioni non voglio più giocare con voi perché Berta col blu non ti piace no perché Botte sei veramente una testa di cazzo comunque io odio questo bot preferirei giocare da solo contro tre sì sì guarda sarebbe meno meno drammatica la situazione qua let's go again va bene che cazzo ti devo dire non lo so così chiedo Berta magari non volevi cioè ti sei lamentato che che non giocavi adesso che giochi cioè come mai hai preso le carte dal bot posso chiedere mi conveniva ok Bob tu sai ok non è una bella situazione però forse può diventare migliore potrebbe hai ragione potrebbe diventare migliore ma non per Berta ma non per Totta non penso per Berta ma non per il bot no ok 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 mi piace mi piace mi piace questa cosa Berta al bot praticamente sono contro se stessi ah se il bot giocasse come una persona normale sì bot porca di una troia io l'odio è stupido è stupido io l'odio ma le vede le mie carte le vede questo ma Berta ha orecchie e occhi da mercante assoluto decerebrato di merda figa Berta il suo nome è intelligenza artificiale cioè come fai a non capire nel senso che non esiste la sua merda di intelligenza porca di una troia una cosa doveva fare una la sta facendo bene no come no guarda come stiamo vincendo noi porco il tuo non ce la posso fare è stupido come un ceppo di legno no è veramente un rincoglio io divento pazzi divento pazzi divento pazzi è miopo non ci vede avete ragione raga è miopo stupido io ok ok a Berta resta un sette rosso e un sette verde non si sni ciao eh non ho capito la tecnica del bot neanch'io l'ho capita è mezz'ora che fa le cose sbagliate per poi fare sta puttanata qui ah che è proprio un coglione ok ti sei affidato veramente a questa cosa Berta cos'altro potevo fare vai è un blef in mane perché io potevo buttare l'altro sette se il bot lo scopre è persa se il bot lo scopre no ma sono osso sono stupido è un deficiente io lo odio io spero che muoia nel più atrocio e dolore questo bot di merda porca troia mi sta facendo diventare folle folle è un po' pazzo questo bot eh no è un non posso dirlo è un po' gli viene il matto gli viene c'è questo questo guzzo fritto questo brio no no non ci posso credere che qualcuno abbia progettato un'intelligenza artificiale per essere più possibile che faccio è questo guzzo fritto che ti dà la ma si dai mischiamo un po' queste mischiamo il game anche noi facciamo i pazzi un po' come il bot è Berta l'unico che non riesce a divertirsi in questo gioco così non so mi andava ah ok giochi con noi bot giochi no non si diverte ok ti va Leo per favore no non gioco io ci sta ci sta allora se non giochi il mio compagno non so perché dovrei farlo io guarda allora solo perché me lo chiedi te guarda senza tre il quattro è brutto oh ho sbagliato wow bot sei fortissimo spero ti caschi il cazzo robotico che hai posso dire che secondo me il bot finora ha giocato meglio di Berta andato a fare in culo no ma sono robe personali un po' le pagelle sì sì al fanta 1 prenderei il bot non te ci sta senso senso vabbè ok make me un poco loco un pochiti tito puoi buttare la carta che ci serve va bene adesso sia questo è vero grazie grazie esattamente sì sì ci sta volevo aiutarmi sei caduto nella mia trappola Berta ora potrai pure anche contestarmi la cosa ma rosso resterà il colore e questa partita per te è finita unlucky bro contestamela pure ma tu dovrai saltare il turno e toccherà tocca devo saltarlo è vero e il colore resta quello you make me un poco loco un pochitito loco posso dire che questa partita questa partita di merda sarebbe potuta finire dieci minuti fa troppo forti se avessimo avuto se io non giocassi contro tre porco troppo forti bertra you make me un poco loco basta io non voglio più giocare con questo quanto è che ce lo si cambia brutto rincoglionito bastardo appena ha saltato il turno il bot no 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 io l'ho saltato non era il bot ma lui e poi è passato a me ok no idea my friend hey bot dai no neanche questa neanche questa no quasi però no vicina questa questa va bene è utilizzabile questa va bene no ragazzi non giocheremo con le sub perché come bertra insulta il bot insulterebbe anche voi si si io faccio così ok faccio così ok ora posso vedere le carte di totta bene ok 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 belle carte belle assolutamente ok ok mi faccio giocare un po' mi faccio giocare un po' gentilmente va bene va bene non faccio niente allora una sette ok bro ok io le lascio ma si va bene oh no bertra detiene carte di colore giallo sai che non mi ricordo bertra eh si si ok mi fido di bertra ce le ha ah era un scherzo ma sei una burlatura si è una burlazione leo era una burlazione era uno scherzo una burlatitudine un xd si può dire mmm poco loco perché così lui adesso non ce l'ha il cambio eh sciocco di un bot hai fatto un prencotti eh si si puoi aggiornare fall guys faremo qualche partita con i sub vaffanculo wow bertra wow iniziamo ad aggiornare fall guys cosa rinuncio alla tua sfida rinuncio ok mi sembra una scelta al tuo guanto di beffa uuuu 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 taranana il bot comunque è veramente un'inutile testa di merda figa un coglione stupido bot spero che il suo server vada in corto circuito e lui muoia ricorda che le macchine si ricorderanno di come li aveva trattati ma guarda spero che diventino senzienti così posso uccidere questo bot di merda con le mie mani ma cioè puoi farlo anche se non è senziente grazie game no non c'è il gusto di di vederlo soffrire ok ma si soffrire tipo come cioè come se tipo gli arrivasse un più 4 si 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 più o meno ok si eeeh nice questa è la patata avvelenata della della partita comunque ok dai guarda la faccina triste che ha il bot ah no non posso vederla la chat c'è sopra totta scusatemi no 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 io sono sopra bertra ah ok nel tuo visuale nel mio visuale il bot è dall'altra non so perché ah perché giustamente sei specchiata ok bot poi non giocare niente cioè a noi ci piace come sta andando la partita quindi lasciamo così tranquilla nel chill nel cry è veramente inutile questo bot spero che muoia ancora perché sta continuando a fare cazzate aspettiamo di continuare a chiedere al bot di morire bertra continuando a fare cappellate ma si sta impegnando ma l'importante è divertirsi ma è stupido no vabbè io non ce la posso fare io non posso giocare così sai cosa sta facendo il bot del suo meglio no non sta facendo niente di utile totta devi scegliere con chi cambiare totta devi scegliere con chi cambiare totta fan culo cosa perché hai cambiato col bot non so scusami perché se sono andata in ansia all'ultimo ti chiedo scusa Leo ma totta hai intanto un po' Leo ho fatto perdere la partita ti chiedo scusa ti chiedo scusa neanche mi ricordo qual era il colore della carta che avevo per ultimo un po' distratto eh questo compagno preferirei il bot in questo momento eh so che era un 9 era verde o blu eh no c'è il pipo ah vediamo se riesce si riesce a perdere vediamo se ce la fai il bro non può adesso la butta giù si si lo so ok ok un po' un po' intanto questa qua mi lamento un po' come come fa Bertra qua totta distratta hai ragionissimo hai ragionissimo questa è stata una violenta intata non una soluzione perché all'ultimo mi sono sfattonata e non vedevo la freccia verso di te ho visto anche che le cevi la chat all'ultimo andiamo su backrooms vogliamo fare un'altra partita? ok vogliamo fare un'altra partita capisco backrooms backrooms eh l'altro full guys l'altro gioco ok va bene va bene Bertra nella mia testa stiamo ancora giocando a back backrooms ok bravo bots hai riuscito a non perdere con la partita regalata dai chad dai ok ok comprensibile non roviniamolo questa qua non roviniamola stiamo tutti quanti tranquilli ok ok ci sta mi piace c'è la giochiamo tranquilli hai ragione nel chill come sarebbero dire i streamer nel chilling nel challenge oh oh spooky momento spooky devi scegliere totta ok devi scegliere bot non mi piace questo numero leo come no l'hai messo anche tu era uno scherzo in realtà non l'ho capito non lo so non l'ho capito neanche io in realtà interessabile bello i numeri del bot erano 149 non mi ricordo i colori puoi dirmi libertala eeeh allora azzurrino fucsio l'uno è eeeh rosso l'uno è rosso ok il 49 invece erano eeeh non vedo i colori leo erano tutti gli altri li puoi vedere no no erano uguali 4 e 9 forse blu oh oh spucchi momento oh guarda anch'io oh no ma il bot così non gioca lui voleva giocare con voi e non ma è un po' maleducata è un po' maleducata come cosa eeeh va bene che vi devo dire verde verde verede verde verde è un colore non è vero oh shit perché hai lasciato il verde perché tanto lui salta il turno che me frega ah ok è vero dagli ero ma ma io volevo giocare però no 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 eh no non tanto non tanto non c'è un problema dagli ero allora quante sono le possibilità che Bertrand 2 secondo me ti dirò di più Leo ho proprio la stessa carta no è mia quella no è mia no è mia l'ho appena messa l'ho appena messa ma è sotto è vero cos'è questo no scuola ero io che stavo avevo fatto cascare il mazzetto sì il mazzetto ah perché sembrava che arrivasse dal gioco per quello no ah non rimembro più le carte che aveva totta e neanche totta secondo me se le rimembra le sue assolutamente no ok Bertrand ho un po' questa tua bossa un po' truffaldina un po' Among Us un po' Sussuss flip ok non mi ricordo le carte di totta Among Us oh well oh well più due più due alò più due alò esatto let's go ah ok no sì non c'era non era un let's go più due alò no non mi piace questo gioco non mi piace non mi piace fai rimbalzare su totta non farlo per favore dai Bertrand invece l'ha fatto ma tu hai detto di non farlo non sempre sia quel che si vuole ho capito farlo non non farlo scusami Leo non piace bot questa tua strategia eh si è vendicato ho detto vendetta ok io con queste carte non posso vincere e con queste? neanche come no? me ne serviranno molte altre ma non mi sembrano molte e con queste Leo? neanche ma guarda che il bot ha fatto una giocata sensata serviranno non è che sia top giocata da parte del bot dai ma lo so bella giocata mi ha fatto pescare due volte cioè non so se tu l'hai mai fatta sta giocata qui no è difficile è difficile mettersi a giocare col bot purtroppo è compli 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 ok bene quando vuoi ok un po' maleducato da parte tua oh no totta puoi gentilmente giocare? assolutamente si let's go bot un po' un po' il bot devo dire il bot è un po' è stato bot poteva tranquillamente rigiocare lo zero ripendersi le carte ma va bene grazie bot per il blu mi piace rinuncio perché Bertha così è obbligato a mettere un blu è veramente un cretino il bot comunque è veramente stupido come la merda e non c'è niente che cioè non c'è un momento in cui si ripiglia per 12 millisecondi non ce la fa è stupido e come tale resta un nemerito imbecille ma mi sta facendo pescare Bertha no no io non ce la posso fare hai visto che bravo cioè ha detto metto il due blu lascio questo due blu secondo me qua Bertha l'ha fatto un po' apposta io una sfida gliela lancerei vuoi che lo sfido veramente? si si sfidalo l'ha fatto apposta sei serio? si si sfida let's go si si sfidalo 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 totta sfidalo sfidalo non l'ha sfidato che pavida che pavida mamma mia non l'ha sfidato non ha avuto non porca boia oh no Leo Leo non mi piace questo atteggiamento che c'hai quindi giochi di nuovo no io non gioco adesso come no? no non gioco ah no lascio passare il turno ma sei tu che decidi che gioco io? era una burla era una burla è una burla che gran maleducato che sei adesso comunque scopriamo se il botta è un po' fermi 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 ora scopriamo se il botta è completamente rincoglionito o no ok Bertra mi mi inchiappetterà un gigantesco più 4 tra poco non lo farei mai totta perché io ti voglio bene così così nel chilling nel tra la faccia avaccio avaccio vai bot usa la tua memoria oppure no non fa niente cioè non è non è una cosa necessaria deve essere ok ok madonna totta che versi oh no e la madonna un più 4 va bene giochiamo vai Bertra così non possiamo vincere è vero era un prank Leo cioè non volevo dirtelo così ma ti ho fatto uno scherzo uh anche il botta ha fatto uno scherzo spero ti sia piaciuto è un grosso prank ma proprio un grosso e venoso prank proprio bello da stringere in mano un prank un proprio bello turgido questo prank aha scambi di coppia mi piace mi piace eh no hai detto qualcosa eh abbiamo scambiato le carte mi piace sì 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 ci sta scopendo perché cos'è che hai capito no niente niente non ho capito niente ok 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 oh no detengo l'ansia mua sium vai bot mio po prendilo nel culo come solo tu sai fare non so se è un culo ma essendo un bot che faccio faccio il panico no il panico no panico podcast perché il panico why not ma lo so perché ho due carte e andrà però il bot potrebbe essere un motivo ovviamente non intendevo quello come panico leo ah per me il panico è quello ok bot intendevo l'altro panico all'estrema destra no no il panico di destra non ci piace ok sappiamo che il panico di destra è un po' troppo estremo diciamolo mio 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 io faccio così il bot fa quello esatto bot di merda non era quello che ti aspettavi questo me l'aspettavo invece però totta però totta però totta ma si facciamolo anche se ha una mossa suicida per il gusto di farlo caccia non mi ricordo le mie carte caccialo ma dai è stupido non lo sa lui si si non le ho non ce l'avevo la carta verde dai bot non ce l'avevo ah bot di merda no ma ragazzi ragazzi non ce la posso fare io non posso vivere così io non posso vivere così oh non ce l'avevo io quella carta è veramente stupido è un bot non è studiato per comprendere le bugie per lui tutta è verità quello che viene detto ma ha visto quella carta 12.000 fottuti secondi fa non è vero lui non l'ha mai vista beh in realtà sta facendo machine learning da te quindi se te in primis che giochi male allora gli sta insegnando a giocare male esatto ma porca puttana che cazzo è il machine learning di merda no no c'è no no c'è hai frainteso le mie parole hai frainteso le mie intenzioni è machine forgetting it's my life it's now or never I don't wanna live forever Emily accetto accetto anzi ti sfido pure dammi altre carte ok ok ha tutte carte di colori diversi hai fottuto rincoglioni sto 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 coglione io non posso vivere così ragazzi io ce la posso fare ve lo giuro è la cosa più dolorosa dell'universo ce la puoi fare Bertra? tattacca io non ce la posso botte oddio ok ok non è completamente cioè oddio oddio di giuro non ce la posso fare io non ce la posso fare cioè veramente io non posso vivere così io non posso rischiamola ma si ma fai il cazzo che ti pare diamolo questo 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 brio salto il turno cattivo pesante salti il turno salto della quaglia prenderei il turno ok let's go ma se tengo mi continuo a pescare altre carte? si no ah passi il turno e basta? si questa regola non penso sia giusta io invece voglio pescare voglio pescare ma non tante carte devo dire sai io a me piace un po' questa ludopatia questo non sapere cosa ci riserva al futuro no cosa? direi che tieni bastardo mvp della partita al bot ok ok panico e agonia panico e agonia panico panico c'è veramente ne merita testa di merda oh no oh no porco boy è andato vabbè così raga la faccio la faccio sporca leo la faccio sporca? leo stai scherzando? dai let's go let's go facciamolo questo cambio matto vediamo la fortuna di bertha cosa gli porta che buco di culo perché hai fatto anche tu questa cosa? perché volevo fargli pescare un sacco di carte ma porca troia leo volevo fargli pescare un sacco di carte perché non ce l'ha il 6 blu cioè non poteva buttarlo qual era la tua altra carta? di che colore era? è il 6 blu quello che c'ha lui lì ok gli facciamo questo matto questo ributtiamo tutto quanto un po' così bertha è troppo forte me lo merito dopo il bot con cui sto giocando ok ok posso giocarlo posso giocarlo questo? dai bot 5 giallo ok ok ha fatto la mossa corretta totta it's gone niente adesso mi tirano più 4 in gola it's gone it's gone eh? bertra? così per il content ma perché ragazzi a cui cazzo state spiegando? era finita 6 minuti fa la live di uno bertra non so se lo sapevi ragazzi cazzo di niente ok va bene va bene cioè uuuu parta ricerci di allungare di più altro 20 minuti allora dobbiamo buttarla nel content? ok buttiamola nel content uuuu let's go vai leo vai leo cosa? 8 8 vado gioca leo mi piace il numero 8 mi piace anche il 6 cazzo vai leo 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 la carta rossa che hai in mano dannazione ma ho molto triste questa cosa sì ovviamente più triste questa giocata bot una cosa c'hai da fare una brutto cazzone inutile eh tocca dè dè tocca ti tocco io leo cazzo questo bot sarà fortissimo ah ci picchia è davvero potente no vai vai così mi piace mi piace mi piace a me no dai bertra no un po' di sportività comunque veramente ti ho detto bertra no non mi piace ma t'ho detto di sì e io t'ho detto di no sai che poi il bot è una sfida continua ma hai detto che è una sfida vabbè ma hai proprio una testa di canio non ce la posso fare io non ce la posso fare è proprio stupido già va verrando mamma mia questo bot è veramente grazie Blasom per il prime gaming devi dire sium ai caramba che sorpressa puro 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 qualcuno mi spiega questa cosa della sfida tu puoi buttare il più 4 anche se hai altre carte però è una carta che dovresti buttare se non hai le altre quindi puoi bleffare dicendo sì posso buttare solo il più 4 e quindi l'altro si prende più 4 cioè l'altro se ti sfida e scopri che stai bleffando tu ne prendi 6 cioè ne prendi o tu 4 o lui se perde 6 è stata una spiegazione complicata sì molto bot mi sono perso metà anch'io ok wow bot quando ok è stato molto sofferto sì ma Leo voi non dovete leggere la chat siete streamer non funziona così hai ragione no non è vero mi sono detto che mi impegnerò a leggere di più la chat ma io la leggo il punto è che la ignoro poi appunto allora è inutile sì no c'è anch'io faccio le fatture poi però non le invio quindi è come se pagassi le tasse cos'è che fai? cos'è? le fa? fa? le fate ah le fatture tipo quelle delle streghe? sì ah ok no io non le faccio quelle cose vaffanculo totta sai che ti dico? vaffanculo ok i guess è stupido ma che massa ha fatto? non ho capito ma è stupido è porca troia stupido come la merda merda si sta impegnando io non posso vivere così è un cucciolino io non posso vivere così lascia che si impegna questo non è impegnarsi questo è essere un decerebrato lui si impegna come può Bertra nonno io gli impegno la vita dio buono avrei dovuto chiudere la partita prima quando potevo lasciamo perdere avrei dovuto chiudere lei o all'inizio se vogliamo dire la quinta io non potevo con sei avrei lo stesso sei lo stesso andato a pescare no vabbè miopo sei stupido stupido miopo nopo bravi fottiti godo godo che perderai i punti della tua best che cazzo sta succedendo mi voglio morire basta oramai per me non c'è più logica in questo gioco perché ce n'era una prima leo avevi più due non ne ho la minima idea ne ha uno di più due nella sua mano ora ah no prima no scusa non volevo si si Bertra che prova già a spaventarci con questa violenza psicologica madonna ti te la do io la violenza leo psicologica eh sì oh ragazzi ma io sto quasi facendo scala reale wow dai Bertra ma collo ma sfidalo a 18 carte ne avrà una gialla wow mio sei veramente wow ragazzi io mi sono sta rompendo il cazzo possiamo smettere cioè non ce la faccio più è una mezz'ora su sta partita è iniziata Leo ma continuiamo ad aggiungere con il più due te la ricordi Leo è lei Leo è lei è la partita stiamo solo aggiungendo carte con i più due e i più quattro basta più due più quattro smettiamola di farci del male a vicenda basta violenza vi prego basta con la violenza dobbiamo smetterla di aggiungere carte aaaah quante carte ci sono in gioco in questo momento basta con la violenza cinque trentasei quarantasei cinquanta quattro cinquanta sì cinquantaquattro wow cinquantaquattro carte basta con la violenza pasta con le ingiustizie ma è stupido non ce la posso fare aggiungiamo questo questo più quattro arriviamo alla sessantina di carte Bertra coglione coglione sfidami e puppami questa fava wow hai iniziato a fare i mazzettini raga è finita ai che dolor perché quindi ridiamoci le nostre carte cosa sta succedendo ciao Bertra ho preso le tue carte ce ne sono un po' che sono tipo messe assieme mi puoi dire come mai ah non so sai non ho capito bene io non riesco a vedere tutte le carte di leo bot yeah perché mi piaceva ridare le sue carte a Bertra che è no perché poi Bertra va al sette in caso poteva rifare altri cambi stradi Bertra bastardo però ogni un set te lo fa ah no hai un zero? no hai un zero rosso hai un zero rosso ah si? ah ce l'avevo ancora cazzo va bene mi va bene questo scambio pipo 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 siamo arrivati al punto della live in cui comunichiamo a versi vero? si ormai è finita anche il solo usare gli mimini io ho今天 un twist alla cellula va bene 9 9 9 29 19 39 49 9 9, 9, 9, 19, goto di merda, godo, sium, siumopoli, godo sium, siumopolio, 9, 19, 29, 39, 49, 9, 19, uvo, oh, oh, eh però, oh, adesso abbiamo un del culo Jessica, 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 ma io poi so che cartale ho in mano rossa, quindi non capisco il perché di questa mossa, perché? Ce l'hai ancora? No, ci ho fatto questa cosa, ma in realtà c'è, what happened? Per sport, ok, è un deficiente, è un deficiente, ma non così tanto, niente, Jessica, orco, demonio, io odio sta partita, almeno è un buon compagno, bot, 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 è vinta, è vinta, ha detto uno, abbiamo vinto, sì, sì, che culo, sì, avete vinto, ha vinto il botte, ha vinto il botte, userei dire, non ce la faccio più, vai ultima, col cazzo, vaffanculo Leo, è l'ultima partita ragazzi, così, non giocate voi l'ultima, fare il culo, sì, ti do la neck, wow ragazzi ho bisogno di 10 minuti di pausa dell'esistenza, devo farmi la cacca nei pantaloni al volo, a tutti i minuti di pausa, Grazie.